Caro fratello, cara sorella, sai perché preghiamo nel nome di Gesù? Perché usiamo il suo nome? Probabilmente conosci le parole che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli poco prima di essere assunto in cielo e seduto alla destra di Dio. Questi sono i miracoli che accompagneranno coloro che credono. Nel mio nome imporranno le mani ai malati e saranno guariti. Marco 16 17 18 Gesù stesso ci incoraggia a pregare nel suo nome. Dio ha davvero dato a Gesù il nome che è al di sopra di ogni nome. Non l'ha dato a nessun altro, nemmeno un angelo. La Bibbia dice che il figlio di Dio è molto più importante di qualsiasi altra cosa, anche degli angeli. Dio non ha mai detto a un angelo, tu sei mio figlio. Non ha mai detto a un angelo, io sarò un padre per lui ed egli sarà un figlio per me. Infatti gli angeli si inchinano e adorano Gesù. Gli angeli sono servi di Dio, ma Gesù è Dio. Il suo potere reale dura per sempre. Dio non ha mai detto a un angelo, vieni e sediti alla mia destra, ma l'ha detto a Gesù. Ti rendi conto? Gesù è ancora più importante degli stessi angeli. Il suo nome è al di sopra di tutto. Ti incoraggio a pregare nel nome di Gesù oggi, perché c'è potere in quel nome. Questo nome è al di sopra di ogni nome. Grazie di esistere e gloria a Dio.